buongiorno dalla redazione di firenze smart in studio marco gargini iniziamo dalla strada di grande comunicazione firenze pisa livorno dove in direzione firenze si segnalano rallentamenti per lavori tra empoli ed empoli est sempre verso firenze il traffico si sta intensificando tra la strassigna e firenze scandici in a 15 rallentamenti per lavori tra pontremoli e l'allacciamento con la 12 in direzione la spezia il traffico si sta intensificando in a 11 in direzione firenze tra prato ovest e l'allacciamento con la 1 e tra sesto fiorentino e peretola muoversi in toscana è un servizio in collaborazione con regione toscana città metropolitana e comune di firenze buon viaggio grazie a tutti